Paura la scorsa notte in provincia di Verona, dove un'auto rimessa prima si è incendiata e poi letteralmente crollata. La struttura di 40 metri quadri su un piano fuoriterra in via Carso a San Giovanni Lupatoto ha travolto anche un'auto alimentata a GPL che si trovava all'interno. Il padrone di casa, un uomo di 80 anni, nel tentativo di spegnere le fiamme è rimasto ferito. I vigili del fuoco chiamati nella notte hanno lavorato dalle 4.30 fino al pomeriggio del 13 giugno. Hanno domato l'incendio, hanno spento tutti i focolai e hanno evitato l'estendersi delle fiamme ai locali vicini. Hanno inoltre messo in sicurezza l'automobile.